2 caffetti 3 caffetti siamo nel tavolo del corso siamo nel tavolo del corso abbiamo avvitato un locale con la legge ci sono stati superi siamo nel superiore per la cilia ti devi proprio il corso insegna per cambiare la porta devi chiedere consenso per avere pazienza grazie grazie interessante